sta ormai diventando un suo preciso marchio di fabbrica non contento di chiudere ogni estate almeno un colpo in perfetto stile condor tanto per citare l'amico adriano galliani di cui marotta sta degnamente ripercorrendo le orme ladner azzurro si sta specializzando nel sempre più fruttifero mercato dei parametri zero da quando è approdato all'inter nell'ormai lontano 2018 l'ex dg della juve non si lascia sfuggire le grandi e succose occasioni che il mercato propone solo relativamente agli ultimi anni è arrivata gratis a milano gente come hakan kalanoglu henry kenkita ryan andre onana e per finire quel marcus turam corteggiato quando ancora mancavano due anni alla scadenza del suo contratto un vero capolavoro di rara maestria proprio larmeno e turam sono stati protagonisti assoluti del derby e ciò testimonia il gran lavoro del dirigente nerazzurro la musica per il prossimo futuro non è destinata a cambiare non trascurando la possibile pista jonathan david il talentuoso canadese andrà in scadenza nel 2025 ma parecchie società tra cui l'inter sono disposte ad aspettare che si svincoli a costo zero il dirigente meneghino si lecca i baffi all'idea di mettere a segno l'ennesimo colpo top senza pagare alcun costo del cartellino il prescelto è niente di meno che un centrocampista francese impiegato con discreta continuità dal citi de cham che in quella zona di campo ha un'abbondanza da fare invidia ai top club del calcio europeo l'operazione non è facile ma non certo impossibile per uno come marotta classe 99 centrocampista completo dinamismo da vendere e piedi buoni all'occorrenza yusuf fofana è forse uno dei giocatori più sottovalutati del ricchissimo bacino del calcio transalpino che negli ultimi anni sforna talenti come se piovesse nonostante la grande concorrenza di interpreti sulla linea mediana della rappresentativa francese il giocatore del monaco riesce sempre a ritagliarsi il suo spazio merito di una duttilità che è merce rara nel calcio ad alti livelli dei giorni nostri contratto in scadenza nel prossimo giugno il club del principato potrebbe esercitare l'opzione per un ulteriore anno ma serve il consenso del calciatore fofana potrebbe approdare in italia a costo zero già perché il suddetto marotta sta già muovendo i fili come già fatto per il connazionale turam con un'opera di convincimento che non consente margine di errore la concorrenza infatti nemmeno a dirlo è già agguerrita inter dirigenza al lavoro per una firma importante si respirava scetticismo intorno all'inter in seguito ad un mercato che ha alimentato molti dubbi tuttavia simone inzaghi ha dimostrato di saper gestire al meglio una squadra che ha cambiato tantissimo rispetto alla passata stagione grande protagonista fin qui è stato uno dei volti nuovi marcus turam il francese ha segnato un gol meraviglioso contro il milan il secondo consecutivo dopo il colpo di testa vincente con la fiorentina l'allenatore interista ha comunque ribadito come il cammino sia ancora molto lungo contenendo così l'euforia di una tifoseria in festa dopo un derby dominato come anticipato però si pensa anche alle questioni extracampo in particolare l'inter lavorerà ai rinnovi tra scadenze imminenti e accordi brevi infatti ci sono molte questioni da risolvere uno dei primi con cui si parlerà sarà proprio l'mvp del match con il milan enric enkita ryan l'armeno ha segnato una doppietta pesantissima e ha poi offerto l'assist per il definitivo 5 a 1 di frattesi in zaghi non rinuncia mai a lui le sue qualità lo rendono l'equilibratore del centrocampo interista e il suo rendimento è sempre prezioso e costante il suo contratto è in scadenza al termine di questa stagione ma pare evidente come i nerazzurri siano volenterosi di andare avanti insieme la sintonia fra le parti è evidente e di conseguenza non dovrebbero emergere problemi quando si inizierà a parlare di rinnovo con raffaella pimenta la sua agente l'ex roma è un elemento imprescindibile della rosa ed è amato da tutti i compagni come testimoniato dai commenti affettuosi lasciati sotto il post instagram dell'armeno dopo il derby salvo clamorose sorprese dunque l'inter e enkita ryan sono destinati ad andare avanti insieme in primavera dovrebbero andare in scena i colloqui decisivi grazie grazie